Il Bologna è atteso al Dallara contro l'Atalanta ma non potrà contare fra gli altri su Riccardo L'ex di turno si è procurato infatti un infortunio muscolare e sarà fermo per oltre un mese Nuova tegola per il Bologna, Riccardo Orsolini sarà costretto a 3-4 settimane di stop a causa di una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra L'attaccante Ascolano è arrivato sotto le due torri durante il mercato di gennaio Dopo avere trascorsi i primi sei mesi della stagione all'Atalanta senza troppo brillare Sarà dunque costretto a saltare la sfida di domenica contro la sua ex squadra Oltre alla trasferta della settimana successiva all'Olimpico contro la Lazio A forte rischio la sua presenza anche nella gara dopo la sosta contro la Roma L'infortunio di Orsolini va a sommarsi quelli di Rodrigo Palassio, Andrea Poli e Angelo D'Acosta Creando qualche grattacapo a Roberto Donadoni che contro i bergamaschi di Gasperini dovrà rinunciare a pezzi pesanti Tra i quali lo squalificato Giancarlo Gonzales della sua squadra A parte ieri pomeriggio si è allenato anche Simone Romagnoli a causa di un lieve contusione ad un piede Ma contro l'Atalanta ci sarà La 29esima giornata di Serie C propone invece alla Ravenna una sfida in trasferta Quella a Bergamo contro l'Albinolese Tra i giallorossi potrebbe fare il proprio debutto il nuovo acquisto Simone Palermo Vediamo Sono qua ragazzi Ok grazie Una trattativa piuttosto veloce quella tra il direttore sportivo Simone Sabbadini ed il centrocampista Simone Palermo L'ex centella è arrivato alla Ravenna a titolo definitivo fino a giugno e conferma il grande sforzo economico della società giallorossa Segno che si punta alla salvezza diretta Il sacrificio che ha fatto la società è un sacrificio importante Viene da dire che fa anche vedere che quando c'è da fare le cose si fanno E quindi c'è da dirgli solo grazie Nel prossimo impegno domenica alle 14.30 i bizantini saranno in scena all'Atleti Azzurri d'Italia contro l'Albinolese Un match da non fallire in chiave salvezza Domenica ci aspetta l'Albinolese Pensiamo una partita alla volta quindi siamo concentrati per andare a Bergamo a portare a casa punti Come del resto cercheremo di farlo anche in tutte le altre partite Sono dieci finali, lo ripetiamo da tanto ma è la verità Sarà una sfida senza appello quella che sosterrà oggi pomeriggio Limolese contro i Veneti del Campo d'Arsego Rosso-Blu che cercheranno di ottenere l'accesso in semifinale della Coppa Italia di Serie D In un match, quello del Romeo Galli, in cui comunque troveranno spazio tante cosiddette seconde linee Come i difensori Graziano e Zini, i centrocampisti Pellacani e Galanti fino allo stesso Franchini Match winner della rocambolesca sfida di campionato vinta in rimonta con la Correggese Un imolese che ha visto accorciarsi le distanze dalla capolista Ma che ha anche dovuto pagare un forte dazio alle squalifiche combinate dal giudice sportivo Ai danni di Belcastro e Crema Per entrambi è possibile un impiego nella formazione titolare Fischio d'inizio previsto fra pochi minuti alle ore 14.30 Ma cambiamo argomento, parliamo adesso di basket Grande soddisfazione per David Bell La guardia dell'Andrea Costa Imola è stato infatti onorato del ritiro della maglia Che il cestista nativo di Oakland aveva indossato nella sua esperienza in Germania Alla Phoenix Hagen Un riconoscimento che comunque non ha distolto la sua attenzione dall'impegno cui è attesa Imola nel weekend La sfida casalinga contro Verona Vediamo Cinque anni indimenticabili quelli trascorsi da David Bell nelle fila del Phoenix Hagen Il club tedesco ha infatti deciso di ritirare la maglia numero 5 della guardia Oggi in forza all'Andrea Costa Imola È stata un'esperienza indimenticabile Probabilmente gli anni più belli di tutta la mia carriera Il ritiro della maglia mi ha portato alla mente tanti bei ricordi Anni in cui ho posto le fondamenta della mia carriera Questo è sicuro Il presente però si chiama Andrea Costa E tratta di una salvezza ancora da mettere in cassaforte Ogni partita è importante Non ce n'è una che vale più delle altre Ciò che conta è essere sempre concentrati Dobbiamo continuare ad allenarci intensamente E fare poi tutto quello che è necessario per vincere durante le sfide di campionato David guiderà l'assalto dei Biancorossi alla Tezenis Verona Nella sfida del Pallaruggi di domenica Verona è un avversario molto difficile Perché hanno un organico di grande qualità Hanno un grande atletismo E una considerevole varietà di schemi offensivi Dovremo farci trovare preparati in difesa Qualsiasi cosa succeda E vediamo come si metterà questa sfida È il momento del nuoto I campionati regionali master Hanno visto la grande affermazione di Linda Lonzardi La nuotatrice di Forlin Popoli Si è infatti tolta lo sfizio di abbattere addirittura due record italiani Ritoccando col tempo di 26 e 51 il primato M25 nei 50 a stile libero E poi siglando anche il record nei 100 grazie al crono di 58 e 16 Una bella settimana questa Due record italiani ai campionati regionali M25 Insomma di più non si poteva chiedere Sì sono stata molto contenta perché non me l'aspettavo E ho fatto i due record italiano Il record dei 50 stile non veniva battuto dal 2015 Mentre quello del 100 non veniva battuto dal 2009 Quindi dai una piccola soddisfazione direi Sono molto contenta Ti abbiamo conosciuto all'interno di una nostra trasmissione Doppio passo Anche quindi una passione che hai Quella per il calcio Che si unisce a quella per il nuoto Esatto sì Diciamo che lo sport in generale Mi piace veramente tanto Sono amante dello sport Perché comunque Sono convinta che fa bene sia All'anima e sia al corpo Sì voi mi avete conosciuto sempre sotto Diciamo l'aspetto da opinionista calcistica Diciamo così E in realtà sono sempre stata una nuotatrice Da quando avevo 5 anni Prossimi obiettivi a questo punto? Beh i prossimi obiettivi saranno i campionati italiani A luglio sempre master a Palermo E poi ci sono anche gli europei Mi sembra in Slovenia ad agosto Adesso vedremo un attimo col mio allenatore Che ringrazio tanto Francesco Grillo Del Fanatic Team Tanto che ci sono Saluto tutta la mia squadra E li ringrazio tanto E niente Adesso vedremo un po' la preparazione Per questi eventi molto importanti Il Cesena in primo piano Sul Corriere di Romagna Cesena serve una nuova energia Domani Almanuzzi contro il Carpi Per provare ad ottenere 7 punti In una settimana Castori dovrebbe riuscire a recuperare In extremis sia Laribi che Doncor Si parla invece dei funerali Del capitano della Fiorentina Astori Davide sei la luce Così titola il resto del Carlino In 10.000 per l'ultimo abbraccio Ad Astori Malore al papà della compagna Francesca Mentre per quanto riguarda invece L'Europa League Milan Amaro Risveglio È 0-2 a San Siro Contro l'Arsenal Passiamo però adesso Ad ascoltare anche l'opinione Di Luciano Pocci E adesso non è sicuramente il momento Di fasciarci la testa Qualche errore Ovviamente quando si vince 2-0 E si finisce per pareggiarla 2-2 C'è Può venire dalla panchina Può venire dai giocatori Ma bisogna guardare la realtà E la realtà contingente qual è? Che occorrono a mio avviso 16 punti Per raggiungere quota 48 Questa è aritmetica Ma a mio avviso Perché io ritengo Che quest'anno La quota salvezza Per essere salvi Tranquillamente Senza dover Pensare Che si possa Eventualmente Cadere Nella Insidia Dei play out È a quota 48 E allora dicevo Non fasciamoci la testa Prima Che il tutto Sia Concluso Perché in fin dei conti 16 punti Sono benissimo Alla portata Della Cesena Edizione Castori Insomma Se ci guardiamo bene Deve vincere tre partite E guarda caso Proprio Tra la metà di marzo Anzi Fra i primi di aprile E Buona parte di aprile Il Cesena Ha altri tre scontri diretti Prima di avviare La lunga serie Di partite Che sulla carta Sembrano impossibili Però È chiaro Che Il primo ostacolo Assolutamente Da superare Per ridurre Quella quota Di partite Che bisogna assolutamente Vincere È il Carpi Di domani E allora Sotto con i Carpi È tutto allora Per quanto riguarda Questa edizione Di TR24 Sport Vi ringrazio Per essere stati Qui con noi Arrivederci